Si chiude il triennio formativo per conoscere e convivere un percorso dedicato agli studenti per coltivare i valori di inclusione e di integrazione. I giovani ne hanno parlato all'Innovation Center insieme a rappresentanti di minoranze religiose in una tanto rara quanto preziosa occasione di dibattito. Il corso si è svolto per tre anni in collaborazione con UCOI e la Fondazione CR Firenze. Realmente è il titolo per una società inclusiva. Questo percorso che è stato fatto tra l'UCOI e l'Istituto Sangallo è per dare un strumento per avere una società inclusiva, per avere un imam e una guida religiosa che comprende la nostra realtà perché comprendendo la realtà puoi agire in maniera equilibrata, in maniera inclusiva, in maniera di costruzione di pace di fronte a quello che noi vediamo purtroppo di guerre nel mondo.